Ciao sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi una comparazione molto importante tra Huawei P30 Pro e Galaxy S10. In primo luogo voglio darvi un invito importante, date un occhio qui sotto perché c'è un pulsante che si chiama iscriviti, se non siete ancora iscritti al canale fatelo, supportate gli youtubers della terza età, supportate soprattutto gli youtubers diversamente pettinati. Quando arriveremo a 50.000 iscritti faremo una grande festa, ovviamente con ricchi premi e come si diceva una volta anche Cotillon. Vi ricordo anche che qua in alto, più o meno qua, avrete la possibilità anche di andare a pescare quelle che sono le schede che vi portano alle recensioni di Huawei P30 Pro e di Galaxy S10 Plus, nel caso non aveste ancora visto questi prodotti da vicino. L'ultimo per memoria, Mr. Gadget, è ora anche un podcast che trovate su Spreker, su SoundCloud, su TuneIn, su iTunes, date un occhio anche alla versione audio settimanale perché abbiamo sempre molti approfondimenti interessanti. Dopo tutte queste premesse, i telefoni, un display OLED che sfida un Dynamic AMOLED, un display da 6,47 pollici di diagonale che ne sfida uno da 6,4 pollici, ma la definizione cambia molto e vediamo qual è l'impatto dal punto di vista visivo. Allora, simili ma non troppo, abbiamo detto un OLED per il P30 Pro con il goccia, quindi con il noccia a goccia e invece abbiamo l'Infinity O display con una definizione molto più elevata perché siamo a 1440x3040 pixel su Galaxy S10 mentre siamo a 1080x2340 pixel su P30 Pro. La differenza sta anche nel fatto che ci sono addirittura 526 pixel per pollice da questa parte contro i 398 pixel per pollice. Ratio 19,5 noni per invece Huawei P30, mentre Galaxy S10 Plus ha 19 noni. La definizione è anche il rapporto tra la superficie totale e il display, abbiamo un 88,41% notevole di P30 contro l'87,11% di S10. Non sto tutte le volte ad aggiungere Pro, Plus, eccetera, se no ci impieghiamo una settimana. Per quanto riguarda la qualità del display, quale differenze ci sono? Vediamo intanto la leggibilità, vedete che nel caso di entrambi anche l'angolo di lettura è veramente notevole. A livello di luminosità siamo in entrambi a dei livelli veramente molto alti, ma date un occhio a una cosa se noi confrontiamo questi due display usando il display tester. Allora parto dal colore e dalla saturazione della banda, quello qua in alto lo riconoscete dal buchetto, è l'S10 con lo sotto il P30. Allora il P30 ha diciamo una gamma di colori meno ampia, le sfumature che trovate sull'S10 sono infinite a differenza del P30, ma una spiegazione c'è. La gamma di colori sostenuta infatti da P30 non è white color gamut. Guardate la differenza tra i due display quando vengono affiancati, il fatto che su S10 si legga la scritta Android vuol dire che il display di Samsung supporta il white color gamut e non solo, è anche certificato di CIP3 e quindi diciamo con una qualità, un dettaglio che è sicuramente superiore, anche se poi dal punto di vista visivo guardate che dando un occhio a questi due display il risultato per l'occhio è veramente molto molto simile. Ve lo mostro immediatamente appena smetto di litigare con le gestures del telefono. Vedete dal punto di vista visivo l'impatto comunque è molto molto simile. Per quanto riguarda la lettura, la luce del sole, entrambi comunque sono di ottimo livello. Leggibilità anche quando lo schermo, quando diciamo la luce è ridotta, comunque buona, ma c'è una differenza invece che è fondamentale che voglio farvi lottare. Ho messo entrambi i display alla massima luminosità, purtroppo vedete nel caso di Galaxy S10 vedete alcune righe del refresh, perché questo è un fenomeno tipico dei display AMOLED quando vengono ripresi. Quello che vi faccio notare è come il display di P30 sia esageratamente più bianco, cioè il display di Galaxy tende a virare un po' verso il giallo. Io non lo vedo tanto come un particolare difetto, ma come una taratura diversa del colore. Vi spiego perché, perché Samsung ha annunciato in fase di presentazione che il nuovo Galaxy S10 ha un'emissione della luce blu che è ridotta addirittura del 40% rispetto al modello precedente, quindi al Galaxy S9. Questa riduzione del blu, necessariamente pur tarando nel migliore di modi il display, porta leggermente a virare verso il giallo. È un effetto ed un dettaglio di cui vi accorgete particolarmente quando fate un confronto con un display che è tarato invece con colori molto molto freddi. Diciamo che non è un dettaglio che balza all'occhio quando invece voi state usando il vostro telefono senza un elemento comparativo. Funzionamento del telefono. Allora, c'è un dettaglio che vi faccio notare. Quando usate il telefono appoggiato al tavolo, la conformazione della fotocamera comporta purtroppo questo movimento per quanto riguarda il P30. Galaxy S10 invece è stabile sul tavolo. Diciamo, da una parte Exynos 9820, dall'altra Kiri 980. Il Kiri 980 secondo me è un processore veramente fantastico. Buono anche il 9820, così come lo Snapdragon 855 per i modelli americani, comunque di paesi diversi dal nostro, anche se in effetti pare che il Kiri 980 abbia una migliore ottimizzazione sia in termini di velocità che in termini di gestione dell'autonomia. Volevo mostrarvi una cosa importante, sto prendendo Real Racing da una parte e andando a cercare Real Racing anche dall'altra faccio partire entrambi i telefoni contemporaneamente. Vedete come il Turbo Boost, così come viene definito di P30, in effetti accelera drasticamente la partenza dei giochi. Guardate come in effetti il caricamento su P30 sia estremamente veloce. Da questo punto di vista bisogna dire che il Kiri 980 di Huawei è veramente un prodotto eccezionale. Ovviamente un tema molto importante è quello della fotocamera. Allora, bisogna guardare questi due telefoni in questo modo per vedere la diversa interpretazione. Guardiamola magari da vicino. Più da vicino per vedere dunque la diversa interpretazione. Tre fotocamere in questo lato, quattro fotocamere invece sul fronte di P30. Sappiamo 12 più 12 più 16 su S10 e invece 40 più 20 più 8 più la fotocamera Time of Flight su P30. Sulla parte anteriore doppia fotocamera con il famoso buchetto, sono 10 più 8 megapixel. E invece il P30 ha optato per una singola fotocamera anteriore da 32 megapixel. Qual è la qualità con cui lavorano queste fotocamere? In fase di presentazione di P30 abbiamo visto delle cose mirabolanti, soprattutto per quanto riguarda lo zoom. Qui potete vedere adesso alcuni degli esempi di scatti. Scatti, in effetti, lo zoom, senza utilizzare lo zoom digitale che tutto sommato è un artefatto che non è proprio esagerato. Però guardando invece lo zoom il 5x siamo davanti veramente a degli scatti di qualità superlativa. C'è sempre un leggero ritocco del colore rispetto al colore reale, ma la qualità è comunque ottima. Se guardiamo invece le foto in condizioni normali, io trovo che le foto di Galaxy S10 siano più attendibili per quanto riguarda il colore ritratto. Cioè il colore che vedete nella foto è quello che si vede nella realtà. P30 tende sempre ad alterare un po' la colorazione delle immagini. Nelle foto notturne invece non c'è dubbio che la modalità notturna di P30 sia in assoluto forse una delle migliori insieme a quella di Pixel 3. Però io ancora una volta focalizzerei l'attenzione anche sull'alterazione del colore. È vero che tira fuori tantissime informazioni in orario notturno, ma i colori non sono quelli che vedono il vostro occhio. E da questo punto di vista mi sento di difendere il risultato di Galaxy S10 Plus, che secondo me anche di notte fa delle foto assolutamente meravigliose. Sul lato selfie vediamo alcuni scatti che sono a disposizione. Sul lato selfie secondo me invece non c'è competizione, nel senso che il Galaxy S10 vince a mani basse. La doppia fotocamera da 10 più 8 megapixel funziona molto meglio di quella da 32 di Huawei P30. Non posso mostrarvi invece ancora il formato dual view, cioè la ripresa con due soggetti, con due zoom diversi, perché non è ancora disponibile su P30, arriverà solo con un aggiornamento più avanti. Se invece andiamo a guardare i video, vi devo dire che anche in questo caso Galaxy stravince per la stabilizzazione e per la qualità del colore. Anche P30 fa un buon lavoro, un ottimo lavoro però solo sul sensore normale, quello da 40 megapixel, perché quando si usa invece lo zoom 5x, nonostante sia promessa una stabilizzazione ottica anche dello zoom 5x, potete vederlo in questo momento. Il risultato non è granché, il video straballa veramente tantissimo. Anche i video sul fronte selfie, devo dire che secondo me hanno una qualità migliore invece su Galaxy S10. Diciamo che i due telefoni hanno due valenze diverse e hanno grandi qualità per lo zoom su P30, grandi qualità invece per la fedeltà dei colori su Galaxy S10. Dovete decidere quale delle due cose per voi è più rilevante. Stiamo comunque parlando di due prodotti di un livello di eccellenza superlativo. C'è un altro aspetto di questi telefoni che curiosamente è stato quasi ignorato in entrambi le presentazioni, cioè quello del Samsung DeX per il Galaxy S10 e della connettività diretta per Huawei P30. La possibilità cioè di attaccare un cavo HDMI che arriva direttamente al connettore USB Type-C e senza bisogno di interfaccia potete portare il vostro telefono su grande schermo con un'interfaccia che è adattata al grande schermo. Leggermente cambiata quella di P30 rispetto al passato, ora vi permette di vedere praticamente tutte le applicazioni che vedreste sul telefono anche su uno schermo più grande. Bisogna vedere che tipo di implicazioni ci saranno su questo dal punto di vista dei diritti perché in alcuni casi potrebbe essere un problema. Mentre su Galaxy S10 ulteriormente migliorato rimane questa versione desktop del software che in alcuni casi può essere anche comoda magari per chi vuole semplicemente arrivare a attaccare il proprio telefono per lavorare in ufficio e farlo più comodamente. Entrambe le soluzioni funzionano molto bene. Un dettaglio di cui molti mi chiedono è il LED luminoso che non c'è, non c'è né nel P30 né nel Galaxy S10 però entrambi i telefoni hanno il dettaglio del always on display, dello schermo cioè che fornisce informazioni sulle notifiche. E dopo l'ultimo aggiornamento del P30, quello che è arrivato praticamente proprio in prossimità della sua uscita sul mercato, il P30 adesso mostra le notifiche anche di terze parti, cosa che prima non riusciva a fare. L'always on display di Samsung ha invece un livello di personalizzazione superiore, potete scegliere anche il tipo di schermo che volete, il tipo di sfondo, avete una serie di interventi che potete fare di tipo estetico superiori rispetto al controllo che avete sul display sempre attivo di Huawei P30 invece che non ha una grande possibilità di personalizzazione. L'audio, ecco entriamo in un dettaglio, molti di voi mi hanno chiesto dell'audio mono di Huawei P30, allora sì è vero l'audio è mono tutto sommato di una discreta qualità, l'audio non è di volume altissimo ma probabilmente non c'era una soluzione differente per Huawei che ha scelto di togliere la capsula con cui si parla al telefono. Vi faccio sentire l'audio, ecco come potete sentire probabilmente il volume di Samsung, siamo in entrambi i casi al massimo, ecco lo potete vedere da qui sopra, vedete. Volume al massimo da una parte, volume al massimo dall'altra, ovviamente ascoltando Radio Number One perché non avete altre radio nel fuori di lei, l'audio sul Galaxy S10 avendo l'emissione anche oltre che sulla parte frontale, ovviamente l'audio del Galaxy S10 è molto più forte anche a livello di volume e con una migliore definizione. Lascio a voi la scelta se questo sia un elemento distintivo importante oppure no, però ecco forse è anche complice la certificazione IP68 di entrambi i telefoni, ecco forse Samsung è riuscito a trovare una soluzione migliore per combinare la certificazione IP68 comunque con un volume audio molto alto, Huawei ce l'ha fatta solo a metà. Batteria, batteria questo è un tema importante, 4200 mAh per il P30 Pro, 4100 mAh per invece il Galaxy S10, c'è un elemento distintivo fondamentale che è quello del processore Kirin 980 da Huawei e invece l'Exynos 9890 su Samsung, bisogna dire che in questo caso P30 Pro vince a mani basse. Ma attenzione perché non è vero che il Galaxy S10 ha una batteria così inferiore, diciamo che alle prime cariche faceva un po' impressione per la velocità con cui si scaricava, poi piano piano tutti i suoi algoritmi, diciamo i ritmi di gestione della autonomia hanno portato secondo me ad un ottimo risultato. Come sapete io diffido un po', se avete già visto le mie recensioni, io diffido un po' su quei test che stanno lì in modo un po' maniacale, vedere quanti minuti di schermo acceso c'è, prendo un telefono, lo uso nella mia vita di tutti i giorni, quello che dura di più è quello essenzialmente con la batteria migliore, in modo molto empirico. E vi devo dire che questi telefoni comunque mi portano a fine giornata senza patemi d'animo, ma se devo scegliere un vincitore dico P30 Pro senza pensarci neanche due volte perché la gestione dell'autonomia è veramente fondamentale e straordinaria. Come sono questi telefoni a livello di personalizzazione del software? Se andiamo a dare un occhio al lavoro che è stato fatto, devo dire che su questo fronte, almeno per il mio gusto personale, la One UI, per non dire One UI, di Samsung è di gran lunga superiore. Sappiamo anche che c'è una nuova interfaccia EMUI 9.1 per Huawei, però guardate che non cambia molto dal punto di vista grafico, la vera differenza per quanto riguarda la nuova interfaccia di Huawei è il fatto che sia costruita con un nuovo file system, quindi vuol dire un software più leggero che scrive e legge più velocemente le informazioni e quindi questo dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni, però dal punto di vista grafico non è cambiato molto e su questo fronte devo dire che apprezzo proprio tantissimo quella che è la qualità di Samsung. Samsung ha sempre ovviamente l'elemento di differenziazione con questo che è lo schermo, quindi la possibilità di usare lo schermo curvo con uno sfioro per accedere ad alcune delle funzioni. Però devo dire che entrambi sono molto funzionali, dal punto di vista del funzionamento di tutti i giorni è anche molto veloci. Sicurezza, allora entrambi con il sensore delle impronte digitali nascosto sotto lo schermo, lo sappiamo. Il sensore ultrasonico di Samsung non è immacolato e non è perfetto. Lo sblocco del volto invece per entrambi ha il problema di non avere il sensore a infrarossi, quindi di non avere la proiezione 3D dei punti sul viso e quindi ad esempio quando c'è il buio completo non riuscite a sbloccare il telefono con il vostro volto. Quando c'è invece luce sono entrambi particolarmente veloci e comunque affidabili nello sblocco del telefono. Diciamo che anche da questo punto di vista tutto sommato si equivalgono. Allora, l'ascolto in capsula. Mi sono girato da questa parte per parlare di ascolto in capsula per una ragione ben precisa, perché, insomma, abbandono un attimo il P30 e, scusate, ho toccato inadvertitamente, vi mostro, insomma, questa piccola feritoia, ecco adesso la vedete, no? Questa piccola feritoia in alto che è la capsula per ascoltare le conversazioni per Galaxy S10. È una feritoia invece che, vedete, non esiste sul nuovo Huawei P30 perché nel caso del P30 l'audio viene riprodotto essenzialmente in questo punto del telefono. Cioè, se io ad esempio faccio un numero di telefono e chiamo il 119, questo è il punto in cui io devo essenzialmente appoggiare l'orecchio per ascoltare la conversazione in arrivo. Quando fate delle chiamate vi viene ricordato che dovete, diciamo, appoggiare l'orecchio in questo punto per avere un corretto ascolto della conversazione. Siamo dunque al termine di questa recensione che è durata quasi due settimane e spero ne valesse la pena per tutti voi. Allora, per me un essenziale pareggio, poi mi piace molto questa sottigliezza, insomma, 0,6 mm di differenza si vedono a favore del Galaxy S10, però tutto sommato nella valutazione complessiva, se non si entra in una focalizzazione malata tra millimetri, dettagli, milliampere, ma si valuta l'utilizzo complessivo del telefono, diciamo che è un essenziale pareggio tra i due prodotti. Come esperienza d'uso complessiva complice anche, diciamo, l'interfaccia, io forse propendo un po' per il Galaxy S10, ma, ripeto, sono comunque entrambi prodotti di qualità superlativa. Qui sopra, mi raccomando, trovate la possibilità di agganciare le altre recensioni di P30 e di Galaxy S10, sotto invece la possibilità di iscriversi al canale. Se volete ci sentiamo su Radio Number One, se ho dimenticato qualcosa nei confronti tra i due prodotti, lo faccio sempre, lo sapete, insomma, non tiratemi le pietre, fatemi domande e sono pronto a rispondere in qualunque momento. Ciao da Mr. Gadget!